Ci troviamo a Verbania, perché è proprio da qui, dal capoluogo della provincia del Verbano Cusiossola, che partirà la penultima tappa del Giro d'Italia 2021. La data fissata è quella del 29 maggio, ma per saperne di più abbiamo incontrato Silvia Marchionivi, sindaco di Verbania. Dopo sei anni, con la meravigliosa giornata di fine maggio del 2015, l'arrivo con la vittoria di Gilbert, torniamo con il Giro d'Italia a Verbania, a Pallanza in modo particolare e in questo caso sarà una partenza, sabato 29 maggio, quindi penultima tappa definita come una competizione fondamentale perché l'arrivo sarà in Svizzera, un percorso di oltre 200 chilometri. Noi avevamo chiesto l'arrivo anche per onorare Filippo Ganna, campione del mondo che è di Vignone, ma comunque è di Bervania. Ci fa piacere cimentarci con un altro momento organizzativo che è la partenza. È sabato, quindi grandi disagi non ci saranno per i cittadini, invece la possibilità di vivere una giornata di intensa passione sportiva con anche qualche opportunità commerciale che in questo momento è utile. Sono stati fatti sopralluoghi per quanto riguarda il collocamento delle squadre che saranno a Intra, in Piazza Fratelli Bandiera e quindi i residenti potranno così entrare in contatto con i grandi professionisti. Quindi un percorso da Intra che arriva a Pallanza come una sorta di passerella per i ciclisti e poi la partenza dal lago, immaginando che sarà anche una spenda giornata, la ciclabile e l'uscita dalla città. Stiamo immaginando, speriamo di riuscirci anche nei giorni precedenti di inaugurare la pista ciclopedonale che è un'infrastruttura necessaria per una località turistica come la nostra. Un ringraziamento al Giro d'Italia perché ha sempre una organizzazione notevole, ben strutturata e che funziona. La Regione Piemonte con cui la collaborazione è stata massima perché questo giro vedrà la presenza di più luoghi di questa regione e questo è un elemento sicuramente positivo. Noi immaginiamo di avere qua tanti appassionati amanti di questo meraviglioso sport e anche per applaudire Filippo Ganna e gli altri campioni che saranno presenti. È probabile che nei prossimi anni non potremo ospitare la tappa perché iniziano dei lavori soprattutto qui a Pallanzi e quindi per noi questo era anche l'ultimo anno utile prima della fine del ciclo amministrativo. È sempre una giornata di festa che attira tante persone e quindi soprattutto in questo momento può essere anche utile per ricreare un po' di fiducia e sperando in una stagione positiva.